Ci troviamo in Piazzatola, una delle piazze più belle della nostra città. Da qua partirà la nostra settimana di interviste per capire che cosa pensa la gente di argomenti di attualità, di approfondimento, di cultura e anche qualche curiosità. Questa settimana parleremo di sicurezza. Sassari è una città sicura oppure no? Chiederemo che cosa ne pensano i cittadini e che cosa si potrebbe fare per rendere ancora più sicura questa nostra città. Signora, Sassari è una città sicura? Non troppo. Veramente proprio la zona centrale è insicura. Cosa manca? Mancano i controlli, assolutamente, ad una certa ora. Sia nelle ore pomeridiane, dopo una certa ora, insomma, nel centro è meglio non uscire neanche da soli. Perché è veramente pericoloso. Io personalmente cerco proprio di non passarci determinate ore e anche nelle altre sto molto attenta. Proprio la paura assolutamente c'è. Lei ha detto comunque che non abita al centro storico, quindi secondo lei, in generale, Sassari, comunque, anche negli altri rioni, negli altri quartieri? Negli altri quartieri lo stesso. Da una certa ora si esce sempre un po' con la paura, pochi controlli. Anche da parte delle forze dell'ordine ogni tanto passa qualche volante, sì, però noi non ci sentiamo sicuri. Consigli? E' garantita, sì. Grazie. Niente.